Ciao ragazzi bentornati con le ricette dell'amore vero, io sono Claudia Enni e oggi ho preparato per voi una ricetta super veloce, pronta in soli 5 minuti, light e gluten free, sto parlando della farinata di ceci in padella, da non confondere mi raccomando con la cecina o farinata di ceci al forno, la cui videoricetta potete trovare qui in alto a destra nelle schede informative. Questa è un'alternativa gustosissima che non ha nulla di invidiare a quella originale, ma è perfetta per chi non ha tempo, chi non vuol mangiare cereali e anche per chi è a dieta. Andiamo subito a vedere cosa occorre per prepararla, ma prima sigla! Ecco gli ingredienti che occorrono per preparare la farinata di ceci in padella in 5 minuti, potete trovare maggiori informazioni giù nell'info box oppure in alto a destra nelle schede informative. Versate la farina di ceci in una ciotolina, aggiungete l'acqua e cominciate a mescolare con una frusta a mano. Unite poi un pizzico di pepe ed un pizzico di sale. A questo punto non vi resta che mescolare tutto formando una pastella lenta. Prendete poi una padella antiaderente e versate al suo interno un cucchiaino raso d'olio d'oliva che distribuirete su tutto il fondo con un pennello da cucina. Ora versate tutta la pastella aiutandovi con una spatola e coprite con il coperchio lasciando cuocere a fuoco basso per circa 2 minuti, 2 minuti e mezzo per lato. Dopo i primi 2 minuti e mezzo circa, girate la farinata dal lato opposto. Coprite sempre con il coperchio e fate cuocere per altri 2 minuti. Dopo i 2 minuti togliete il coperchio, rigiratela l'ultima volta e lasciatela a 20 secondi così all'aria per farla asciugare del tutto. E la vostra farinata di ceci cotta in padella in soli 5 minuti è pronta in tutto il suo splendore. Un gusto ragazzi da provare assolutamente. Tagliata a spicchi è ottima anche per i buffet e per le cene in giardino. Veramente gustosissima e molto facile da preparare. Ricordatevi che è perfetta anche per i celiaci e per chi è a dieta. Mi raccomando ragazzi se vi è piaciuta questa videoricetta regalatemi tantissimi pollici in su per far crescere il canale e iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Io vi ringrazio sempre per il vostro affetto e vi invito a seguirmi anche su www.lericettedellamorevero.com e sui social facebook, twitter, instagram e pinterest. Trovate sempre tutti i link giù nell'info box ma comunque mi trovate come le ricette dell'amore vero ovunque. Io vi mando un bacione, vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!